Basilicata. Vertice sul rischio idraulico per i fiumi della Basilicata. L'assessore Laura Mongello ha illustrato il decreto adottato dalla Giunta che mira a mettere in sicurezza il territorio da un punto di vista idrogeologico con un confronto diretto con le associazioni di categoria. L'obiettivo, oltre a quello di essere celeri, è quello di ripristinare l'ufficiosità degli alvei pulendoli dai depositi in eccesso nonché dalla vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque, ha spiegato l'assessore Mongello che ha poi sottolineato. Questo provvedimento è mirato a consolidare il rapporto tra la Regione che all'onere della governance del territorio, i professionisti, capaci di progettare gli interventi da realizzare e le imprese di settore a cui spetta il compito di eseguire a regola d'arte quanto previsto dal progetto.